Buona a tutti quanti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Allora ragazzi avete presente che su BR ti bannano Per aver mandato la mamma No non si dice Per aver messo un account in vendita No non si dice Per aver fatto tantissime altre cose Ecco benissimo Siccome BR ti banna per qualsiasi cazzo di cosa Che cos'è che ho pensato? Di creare un gruppo uguale a BR però senza il ban Non esiste il ban E niente dove potete anche cercare team Non so ragazzi Volete ostare delle custom Volete fare qualcosa Ecco questo è il gruppo ideale Dove non vorrei mai bannato Dove non c'è l'orario del notturno E tante cose che mi stavano in culo su quel gruppo Tra cui mi hanno bannato su un account Io ovviamente non ho un account telegram E quindi sono ancora dentro Però il discorso sta ragazzi Che comunque da fastidio Cioè per un motivo ragazzi che si capisce molto bene Se volete il gruppo è in descrizione E è il primo link in descrizione E sotto ci sono le solite cose Dove troverete anche Hyperfollow Gcore Dove troverete tutto quanto Quindi codici, mappe eccetera 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 Ma dovete cliccare il primo link ragazzi In descrizione Dove vi porterà in questo gruppo Telegram Che si chiamerà BR2 Fortnite Italy Niente ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo video Bella a tutti quanti ragazzi Potete cercare arena Potete cercare un compagno Con cui giocare Buona fortuna Bella ragazzi Grazie Grazie Grazie